Prima di pranzo, la 125, visto l'antifico di 20 minuti rispetto al programma per gli fiani minori, la faremo prima di pranzo. Parte la categoria 50, ai suoi da 5.000 euro, 5.000 euro per l'ostrotto, bravo, 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 5.000 euro, bravo, 5.000 euro, bravo, la madre con Grazie per la visione, grazie per la visione.